Allora, buongiorno a tutti, chiedo scusa per il ritardo, iniziamo subito la presentazione di questa iniziativa, darei subito la parola al dottor Messi, prego per la giustiziazione della campagna, grazie. Buongiorno, grazie. Due parole di presentazione di come siamo arrivati a questo progetto, progetto itinerante di prevenzione del carcino morale. Progetto itinerante nel senso che abbiamo organizzato nell'area vasta 2, inizialmente perlomeno, una campagna di prevenzione per individuare nel modo migliore e soprattutto per sopperire a un ritardo diagnostico, una patologia molto spesso non conosciuta che è il carcinoma del cavorale. Il carcinoma del cavorale è una patologia che coinvolge 10 nuovi soggetti su 100.000 abitanti, 4.000 nuovi casi in tutta Italia. E il dato più sconcertante è che a tutt'oggi c'è un ritardo diagnostico di circa 167 giorni. Il ritardo diagnostico purtroppo rappresenta un concetto molto importante perché si può passare da una guarigione totale fino al decesso del soggetto. Quindi per noi poter intercettare questa patologia nel più breve tempo possibile è un dato fondamentale. Quello che vorrei focalizzare è che in pratica questa campagna di prevenzione, oltre al fatto di avere un carattere scientifico diretto, vuole avere anche un simbolo, il simbolo della sanità che scende in piazza. Cioè questo è un incontro della sanità verso la popolazione, verso una sorta di abbraccio in questo contesto socio-politico particolare che viviamo in questo momento. Quindi rappresenta una sorta anche di vicinanza a quello che è la popolazione, oltre all'aspetto logicamente di prevenzione a tutti gli effetti scientifici. Ritengo che la prevenzione sia un elemento fondamentale e deve essere inquadrato in quello che è un progetto molto più grande che nasce dall'area vasta 2, cioè quello di una rete, una rete assistenziale integrata fra quello che è il territorio e l'aspetto invece ospedaliero. Abbiamo creato un format nell'area vasta 2 dove c'è un'integrazione assolutamente organizzata, interattiva, fra quello che sono gli ambulatori odontoiatrici periferici e le sedi ospedaliere che sono appunto localizzate, Iesi, Fabriano, Senigale e Loreto, e dove grazie insomma agli amministratori, l'assessore dove io governo tutto quanto, questo territorio sotto tutti gli aspetti, ho potuto creare questa rete assolutamente duttile, fluida, omogenea, dove in pratica vengono intercettati e soprattutto data un'assistenza a quelle fragilità cliniche che possono essere trattate a 360 gradi, a volte laddove c'è necessità anche in ambito ospedaliero. Che cosa si intende fondamentalmente però per fragilità? Che è un concetto che potrebbe essere astratto ma invece molto pratico. La fragilità clinica è rappresentata non soltanto da portatori di soggetti con handicap più o meno gravi, ma sono appunto anche pazienti oncolosici, postoncolosici, cardiopatici, epatopatici, tutti quei pazienti anziani con molte comorbilità, quindi coagulopatici, considerate che in pratica tutto quanto a questa fascia di popolazione rappresenta dal 25 al 27% della popolazione destinata ad aumentare proprio per l'invecchiamento stesso della popolazione. Quindi riuscire a garantire un sistema territoriale radicato che possa governare tutto quanto a questa situazione rappresenta sicuramente un format che non è riscontrabile facilmente in Italia. Soltanto in Trentino Alto Adige e parte dell'Emilia Romagna sono organizzati in maniera molto simile a questa. Per cui questo è un format, un modello che io come tecnico ho proposto all'assessore, alla regione, agli organi amministrativi per vedere se c'è la possibilità di poterlo estendere anche a tutta la regione. Un modello della regione Marche. Io vi ringrazio per l'attenzione. Naturalmente dottore questa è una conferenza stampa, quindi diciamo che spieghiamo, poi daremo la possibilità ai giornalisti di fare delle domande. Allora, la dottoressa Storti, come si può comprendere perfettamente, come ha sottolineato anche il dottor Messi, qui c'è, diciamo così, un passaggio ulteriore che è quello che abbiamo imparato sostanzialmente dall'epidemia Covid e quello della sanità di prossimità. Cioè il Covid sostanzialmente che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che se mandi il camper per la vaccinazione riesci ad avere, diciamo così, un approccio e una disponibilità del servizio più a portata di mano dei cittadini. Il Covid ci ha insegnato che occorre, si può prenotare la prestazione direttamente sulla piattaforma e quindi stiamo lavorando sulla revisione sostanzialmente del fascicolo sanitario elettronico e tutta quella che è la digitalizzazione del sistema. E con questa iniziativa intendiamo, dottore, io gli avevo già detto, questo è il motivo per cui la stiamo presentando, questo percorso dovrà essere un percorso che dovrà essere esteso a tutto il servizio sanitario regionale, proprio per i motivi di prossimità e di vicinanza. E le dico di più, dovremo, in relazione alle sue competenze, qui si tratta di lo screening che riguarda la prevenzione delle patologie del cavo orale, ma riguarderà anche un percorso riguardante i corretti siti di vita, quindi l'abuso di alcol, il fumo che chiaramente incide su queste patologie. E non per ultimo, se mi permette, l'odontostomatologia per le persone più fragili. Ricordo che alla nascita dello Stato Sociale, Beveridge, ministro della Sanità del Regno Unito del 1946, disse che il servizio sociale, il servizio pubblico di sanità si vede dal sorriso dei suoi cittadini, nel senso che guardando il sorriso dei cittadini si vede qual è il grado di salute del sistema. Ecco, probabilmente non ci riusciremo a garantire cure odontoiatriche a tutti, però sicuramente, io questo l'ho già detto sin dall'inizio di questo percorso che mi vede l'assessore della sanità, dobbiamo immaginare che le persone più fragili dovranno avere un servizio adeguato e quindi dobbiamo riorganizzare la macchina dell'odontostomatologia della nostra regione, perché è impensabile appunto che solamente chi, i ricchi, possano curare questo tipo di organi. Adesso io darei la parola alla dottoressa Storti, la quale chiaramente in questo momento è direttore generale dell'Azienda Unica Regionale, sa perfettamente qual è il percorso che abbiamo condiviso in questi mesi, quindi la sanità di prossimità, quello che avevo detto, l'appoggio a questo percorso sperimentale che il dottor Messi ha avviato e la necessità e la possibilità di comprare questi camper, non solo per questo settore ma anche per l'oculistica, cioè portare direttamente sul territorio dei mezzi con le tecnologie, con gli scienziati, i medici come lei, dottore, per far sì che il cittadino possa sentire veramente il servizio sanitario come una cosa propria, perché in questo momento capite perfettamente che intasamento dei pronti soccorsi, intasamento del rischio d'attesa, CUP è in una certa condizione che deriva da due anni di pandemia, ma da problemi pregressi e rischio d'attesa sono un problema nella nostra regione dal 2012, naturalmente dobbiamo far sì che i problemi non sovrassino la progettualità, perché se noi partiamo dal problema che mancano i medici, mancano le risorse, manca quella, se riusciamo, quindi l'idea era quella che avevamo detto di comprare dei mezzi che possano avvicinare un percorso a livello regionale. Prego dottoressa Stotti. Grazie Assessore, buongiorno a tutti. Allora, questa presentazione ha due valori aggiunti molto importanti. Una, che approfondirò un pochino meglio, che ha già accennato il nostro Assessore, e l'altra, l'importanza dello screening. Relativamente allo screening è una cosa molto importante che non vuole essere una giornata in cui il dottor Messi e i suoi collaboratori si mettono a disposizione per fare una valutazione del cavo orale dei cittadini. Importante sì, ma il segnale che arriva, cioè dobbiamo essere attenti a prevenire queste malattie. E soprattutto dovrebbe essere uno stimolo a tutti gli odontoiatri pubblici e privati, nel momento in cui fanno una cura di una carie, un'otturazione, qualsiasi altro intervento alla bocca, che siano attenti a queste piccolissime lesioni che inizialmente sembrano una sciocchezza, in realtà possono essere responsabili di una patologia molto grave. Quindi ha un valore aggiunto sulla prevenzione, sulla quale con l'Assessore ci sta puntando molto e ci stiamo lavorando, perché sappiamo benissimo che tutto quello che si può prevenire abbiamo il dovere di prevenirlo per evitare poi che si abbiano delle patologie più gravi. Quindi sicuramente è importante lo screening, ma anche come messaggio, come aspetto culturale. Poi l'altro elemento importante che accennava l'Assessore è quello della necessità di fare rete, e quindi questa attività del dottor Messi ha una forte integrazione tra l'ospedale e il territorio, perché lui lavora dentro l'ospedale per acuti, lavora dentro gli ospedali di comunità, quindi di prossimità, lavora nella parte ambulatoriale, quindi taglia quelli che sono tutti i setting assistenziali del nostro sistema. Ma ancora di più, come accennava già l'Assessore, noi potremmo, soprattutto partendo dalle strutture residenziali, cosa che abbiamo già in parte attivato con l'acquisizione di riuniti portatili, che vanno comunque incrementati ulteriormente, anche con ulteriori dispositivi o mezzi, e quindi fare il trattamento direttamente all'interno, pensiamo alle case di riposo, pensiamo all'RSA, dove l'anziano non solo non viene curato, ma ha il problema di essere trasportato con ambulanza, quindi riuscire ad avvicinarsi, a fare interventi quindi di prossimità, è un elemento sicuramente importante. Non solo per i denti, se così vogliamo dire, ma anche per la qualità della vita, perché tenete presente che molti dei nostri nonnini di 90 anni non mangiano perché non hanno i denti, e quindi o mangiano male e non digeriscono perché non hanno i denti. Quindi un intervento sicuramente molto importante, che come diceva anche chi mi ha preceduto, non può essere limitato solamente ad un'area vasta, ma che deve coinvolgere tutto il nostro sistema regionale, integrandoci anche con le varie aziende ospedaliere, che seguono comunque i fragili in alcuni settori insieme a noi. Allora, la collega Chiara Biondi, l'avvocato Chiara Biondi, che è un consiglio regionale, lei risiede a Senigallia, è presente, perché lei... Senigallia... Ci penso un po'. Dottoressa Storti la dovrebbe riflettere un po'. Allora, l'avvocato Chiara Biondi aveva molto sollecitato questo approccio di prossimità, diciamo così, nei territori montani. Naturalmente questo è un programma a tappe che era stato già delineato da Dottor Messi, però ci tengo a sottolineare sulla sua presenza, perché evidentemente bisogna tener conto, anche nella riorganizzazione del sistema e del servizio sanitario, che presto io porterò all'approvazione della giunta regionale, quindi la modifica a legge 13 sull'organizzazione del sistema sanitario. Il problema dei servizi nelle aree, diciamo, interne della nostra regione, tenendo conto che di fatto un milione di persone abitano lungo la costa, e quindi diciamo che questi servizi servono appunto per approcciare un servizio più prossimo appunto a persone dell'entroterra e soprattutto in zone anche colpite dal sisma. Non so se vuoi dire. No, io ovviamente ringrazio in maniera particolare l'assessore, il Dottor Messi, la Dottoressa Storti, per aver avuto, diciamo, questa sensibilità. Come diceva infatti l'assessore, abbiamo voluto, siamo voluti partire, diciamo, da Fabriano, proprio perché comunque è un territorio che sicuramente ha subito nel corso del tempo anche il venir meno magari di alcuni servizi importanti e poi da qui ovviamente partiremo sicuramente per tutti gli altri territori della nostra regione. Tutti noi ovviamente siamo consapevoli di quanto sia importante la prevenzione ed oggi abbiamo voluto mettere il focus proprio su questo argomento che spero sia solo l'inizio ecco di un percorso. Grazie. Allora, siccome questa è una conferenza stampa, se voi avete bisogno di chiarimenti, prego. Se posso volevo soltanto due punti che non sono riuscito forse a comunicare. Quando parlo di assistenza per le fragilità distribuite omogenicamente in una rete non vuol dire abbassamento della qualità. Io ritengo che in pratica in un concetto piuttosto moderno e realistico di dare assistenza subentrano tre fondamentalmente aspetti e condivisioni. Una con l'università che deve mantenere un grado scientifico e di know-how acquisito anche nella formazione dei nuovi medici e l'altra in pratica oltre al territorio fondamentalmente in questo caso rappresentato da me il passaggio successivo soprattutto per ciò che riguarda l'oncologia che è il distretto l'ospedale di secondo livello proprio per il trattamento dei tumori più ingravescenti. Questo tipo di situazioni io ho lavorato in chirurgia maxilofaciale per 37 anni per cui in pratica sono situazioni che debbano comunque essere create o perlomeno oleate affinché ci sia appunto una velocizzazione di quello che è l'intercettazione della patologia e il trattamento proprio per quei famosi 167 giorni. Ritornando al discorso qualità noi siamo a disposizione perché ritengo che anche nei soggetti fragili portatori di handicap più o meno gravi sia assolutamente come diceva appunto l'assessore indice per una società evoluta quello di garantire anche una qualità di quello che può essere una riabilitazione sotto tutti i punti di vista sia per soggetti portatori di handicap ma anche per ricostruzioni post-oncologiche per cui siamo a disposizione e abbiamo i mezzi per poter garantire anche riabilitazioni importanti per garantire quello che è quella qualità di vita che necessitano questi pacienti. Grazie. Allora, se ci sono domande prego. se possiamo ripetere le date in cui sarete in piazza Fabriano e poi mi diceva ad Ancona. Sì, allora Fabriano saremo in piazza domani e domenica mattino domani tutto il giorno domenica mattino e poi stiamo organizzando per giugno l'11 e il 12 giugno in Ancona. se poi l'assessore mi darà mandato No, no, ci sarà dottore, scusi questa conferenza presentiamo questo poi parliamo assolutamente così. Partiremo anche per i capoluoghi di provincia Adesso vediamo vediamo di estendere c'è il direttore generale quindi lei ha un preciso mandato su questo punto quindi chiaramente voglio queste sono già quelle programmate poi chiaramente qui servono risorse perché bisogna dire una cosa allora il dottor Messi è sicuramente uno dei professionisti più bravi che noi abbiamo nella nostra regione e non solo quindi perché abbiamo affidato a lui questo percorso non è stato mica per caso insomma e chiaramente questo percorso deve coinvolgere anche le altre strutture è fatto bene lui a dire perché comprendete perfettamente che bisogna creare una rete quindi quali sono le altre tappe bisognerà mettere a fattor comune questo esperimento quindi lui adesso questo esperimento dovrà metterlo a disposizione di tutti gli altri ed essere un po' il regista di quello che faremo per questo dottore adesso è anticipare qualche cosa che faremo lo diremo intanto presentiamo questa cosa che era urgente farla ne avevamo parlato all'inizio con la dottoressa Storti all'inizio proprio della consigliatura perché la questione era questa io avevo visitato un centro di persone disabili e avevano tutti dei problemi a livello non di tumori di patologie e quindi chiaramente questo è un tema molto molto importante perché il servizio sanitario nazionale e regionale è un servizio universale che riguarda tutti ma soprattutto noi dobbiamo tenere conto di chi ha avuto di meno anche dalla vita quindi le fragilità rappresentano un punto centrale quindi lei è stato così generoso insomma da aver delineato un quadro però adesso dobbiamo trovare pure le risorse economiche finanziarie strumentali di medici perché è un sistema quello che noi dobbiamo mettere a disposizione del servizio vorrei anche dirlo a questo off record se naturalmente ai colleghi che mi stanno ascoltando a me piacerebbe diciamo anche le conferenze stampa quando noi le facciamo noi le facciamo per presentare progetti futuri faremo diremo eccetera le conferenze stampa che noi abbiamo fatto almeno nella mia esperienza di assessore sono quelle che fanno toccare con mano cose che stiamo facendo perché troppo spesso la politica diciamo così si occupa di progetti grandissimi futuri poi quando uno va a fare il consultivo non succede nulla quindi noi per il momento abbiamo fatto questo poi quando realizzeremo tutto il resto mettiamo insieme tutti lo ripresenteremo era questo il motivo per cui io mi sono promesso di ecco però l'ha detto lui un'esperienza come questa vale oro per noi quindi è per quello che il messaggio cittadini è che abbiamo grandi risorse grandi professionalità e le mettiamo a disposizione insomma delle cittadini ecco questo è il messaggio ci sono domande? mi chiede sempre l'ansia se l'incidenza di questo di questo di questo di questo di questo di questo metà regione è la stessa che ha legato in una strada sempre 10 su 100 mila si circa si se può rispondere dottoressa Storti magari che è il quadro regionale si si confermo che è lo stesso nazionale ok a posso? ah se posso logicamente in questa campagna di prevenzione vengono anche sollecitate come diceva l'assessore le varie motivazioni che portano a questo tipo di patologia quindi è anche un discorso di igiene di vita che si danno consigli appunto sul riguardo al fumo riguardo a quello che possono essere protesi incongrui che determinano lesioni e alcol e poi ho cercato di schematizzare alcuni aspetti proprio per una sorta di autovalutazione del paziente anche magari cercando a volte di banalizzarla ma che sono molto importanti esempio una lesione che non guarisce entro due settimane è sospetta una lesione che ha una colorazione rossa è sospetta quindi ho cercato anche di dare un messaggio molto pratico a quello che la popolazione proprio per una sorta di autovalutazione perché il cavo orale a differenza di altre purtroppo patologie oncologiche può essere facilmente ispezionato grazie se non c'è altro grazie a tutti buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti